Continua la marcia trionfale della Torrese che inanella la tredicesima vittoria consecutiva superando per 2-0 il Goriano Sicoli in un match condotto a bassi ritmi dalla squadra di Valdo Lezza che ripropone lo stesso 11 di partenza della settimana scorsa eccezione fatta per l'inserimento in avanti di Panella in luogo di Sorricchio Pronti via e la Torrese subito pericolosa con Di Giuseppe chiusi in un corner dal portiere gorianese Lattanzio dalla bandierina Esciarra invece a Pescara in area Panella che in tutta solitudine sul secondo palo colpisce di testa per l'1-0 giunto dopo appena 38 secondi dall'inizio del match gara in discesa per la Torrese che vada principalmente a controllare gli avversari pericolosi a metà del primo tempo con la traversa scheggiata da Cifani i subequani tengono bene il campo provando a ripartire senza tuttavia creare grossi problemi alla difesa rosso-blu sterile il predominio territoriale della Torrese pericolosa alla mezz'ora con la punizione di Solomaca deviata da Lattanzio poco dopo sempre sul calcio piazzato è la squadra di Ciacchi a riprovare ma la conclusione di Cifani non inquadra lo specchio della porta di D'Alessandro la Torrese è macchinosa ma prima del riposo Di Giuseppe serve a Sciarra il pallone per il raddoppio però sfumato sull'imprecisa conclusione del centrocampista rosso-blu 1-0 a riposo e prima metà della ripresa senza emozioni fino al raddoppio della Torrese arrivato al 67esimo minuto sul calcio di pulizioni di Sciarra è la traversa a respingere il pallone sul quale si avventa Pucello per il 2-0 che mette in cassaforte i tre punti negli ospiti Forcucci rileva Cifani mentre nella Torrese prima Davide del Rosso e poi Di Giovanni subentrano rispettivamente a Matteo Del Rossi e a Panella nel finale l'attanzio nega la gioia del gol a Di Giuseppe chiudendo poi la saracinesca anche sulla conclusione del neo entrato di Cesare prima del triplice fischio finale del signor notturno della sezione di Vasto 2-0 e altri tre punti per il rosso-blu ancora a punteggio pieno tra le mura amiche per una promozione sempre più vicina di domenica in domenica Oggi un'altra ennesima vittoria in casa segno questa di una squadra che punta senz'altro a vincere il campionato io faccio il grande merito al nostro mister a tutti i ragazzi abbiamo mantenuto un'imbattibilità casalinga a cui teniamo molto però va anche dato merito a un ottimo coreano è una bella partita è chiaro che non venivamo qua a fare la partita della morte abbiamo giocato penso una buona gara la Torrese sappiamo che punta a vincere il campionato ha fatto ormai il vuoto dietro a sé ma ritengo che i miei ragazzi abbiano non demeritato durante la gara siamo stati un po' penalizzati da quel gol a freddo ma per noi è un po' una prassi prendere gol su calci da fermo grazie